La struttura realizzata per la messa in sicurezza della pensilina pericolante sull'ingresso della scuola di Olmo di Riccio è costata con il ribasso del 30% 8.600 euro. Tengono a precisarlo l'assessore comunale ai lavori pubblici di Lanciano Antonio Di Naccio e il progettista Fausto Boccabella, funzionario del settore, nella replica al referente locale di Italia Nostra. L'architetto Pierluigi Vinci Guerra aveva denunciato al Tg Max la pericolosità di quella parte di solaio sporgente dall'edificio che nelle immagini filmate il 16 ottobre presentava ferri scoperti dell'armatura. Oggi li filmiamo ricoperti con del cemento. I lavori quindi sono ancora in corso, spiegano i referenti del comune, aggiungendo che l'intervento è stato approvato dal comitato tecnico del provveditorato alle opere pubbliche, l'ingegner Boccabella. Durante gli studi per la vulnerabilità l'edificio nel suo insieme presentava delle carenze a livello strutturale. Tanto più queste carenze interessano questo elemento strutturale che è posto proprio sull'accesso principale all'edificio. Allora ci siamo posti il problema di metterlo in sicurezza, in via generale e poi per un'eventuale criticità che potrebbe essere indotta da un sisma. Per poterla mettere in sicurezza senza interagire con l'edificio principale ho ipotizzato la costruzione di un portico. La realizzazione di questo portico è stata anche condivisa dalla dirigenza della scuola che anzi vuole poi cogliere l'occasione per realizzare uno spazio protetto dove far rimanere in attesa i bambini visto che l'atrio interno non ha uno spazio sufficiente. Il comportamento statico di questo portico che si è realizzato è completamente indipendente dalla struttura principale. Per questo non si è provveduto ad effettuare il taglio della pensilina. Anche perché se avessi eliminato strutturalmente la pensilina, visto che questa è connessa con elementi strutturali, è connessa con il solaio interno dell'edificio, l'eliminazione della pensilina avrebbe sbilanciato il comportamento sociale. Quindi mi sarei potuto aspettare delle nuove criticità all'interno. Allora ho preferito introdurre un elemento esterno isolato dall'edificio principale che fa da sostegno e praticamente smorsa ogni possibilità alla pensilina di avere un'oscillazione. La struttura in acciaio è un intervento provvisorio, precisa l'assessore di Naccio, perché la scuola realizzata negli anni 60 è stata ammessa a 1.256.000 euro di finanziamento di fondi statali per il miglioramento sismico dell'edificio. La pensilina sarà anche messa con un sistema di converse che renderanno un po' più esteticamente migliore anche l'impatto visivo. Però, ripeto, è un'opera provvisoria che serve a tutelare dagli eventuali eventi sismici che si dovessero verificare in attesa di quello che sarà il progetto complessivo che questa amministrazione è riuscita a fare e ad ottenere. Io mi rivolgo ai cittadini e di ascoltare sempre le due voci, perché gli atti sono pubblici, si possono consultare e vedere. Per i gradini stiamo in questi giorni anche trovando delle somme nelle economie per metterle a posto, però ovviamente abbiamo avuto alcuni ritardi nell'esecuzione e completamento di alcuni lavori. monitorare, amoviare...